Ciao a tutti, oggi parliamo di risconti attivi e passivi e lo facciamo partendo da dei casi concreti. Vediamo il testo. Al 31.12.2018 calcola i risconti attivi o passivi generati dalle seguenti operazioni di gestione, indicando anche la montare del costo ricavo di competenza dell'esercizio. Operazione 1. 21 luglio 2018, ottenuta da un fornitore una dilazione di 9 mesi su una fattura di Euro 8.850. Gli interessi al tasso del 7,50% vengono pagati in contanti in giornata, quindi il 21.7.2018. Facciamo attenzione in che cosa consiste questa operazione. Il giorno 21.7.2018 è scaduta una fattura di acquisto, la nostra, una nostra fattura di acquisto, ma noi non potevamo pagare. Il fornitore ci ha concesso una dilazione di 9 mesi. La fattura noi la salderemo il 27 aprile 2019. Però il fornitore ci chiede di versare immediatamente in giornata gli interessi relativi. Vediamo quanti interessi abbiamo pagato. Gli interessi sono quelli che maturano dal 21 di luglio 2018 al 21 di aprile 2019. Possiamo utilizzare la formula in mesi, visto che ci dice che questa dilazione è di 9 mesi. Tra l'altro avete notato quando noi dobbiamo andare avanti con il tempo, se il tempo è espresso in mesi, partendo dal 21 di luglio saltiamo di mese in mese, andiamo avanti di 9 mesi, ritorniamo nello stesso giorno 21 luglio, 21 aprile, perché appunto aprile è il nono mese successivo a luglio. Allora, la formula, se li calcoliamo in mesi, la formula è capitale per tasso per i mesi fratto 1200 e viene un interesse di 497,81 euro. In data 21 luglio abbiamo pagato questi interessi, li abbiamo registrati, interessi passivi, variazione economica negativa, sono dei costi d'esercizio, costi che noi mettiamo nel conto economico, 497 e naturalmente l'uscita di denaro, variazione finanziaria passiva. Il denaro in cassa è un conto che va nello stato patrimoniale e poi avremo l'indicazione nel mastrino interessi passivi in dare di 497,81. fin qui tutte le cose sono normali, irregolari. Il problema nasce nel momento in cui arriviamo al 31-12 dell'anno, 31-12 2018 e ci preoccupiamo di valutare la competenza degli interessi passivi, cioè vogliamo capire se quei 497,81 euro sono interamente di competenza del 2018 oppure no. in effetti sappiamo già a priori che una parte di questi interessi matura nel 2018 e quindi è di competenza del 2018, mentre una parte sfora, va oltre il 2018 e invade il 2019. Ecco che dobbiamo dividere in due questi interessi, questo ammontare per calcolare la parte che va a finire nel 2019, quindi è di competenza del 2019 e dovrà essere tolta dal 2018. Questa parte dovrà essere, questa in rosa dovrà essere tolta dal 2018. Come facciamo a calcolare questa parte? Intanto noi sappiamo che il periodo complessivo, gli interessi che noi avevamo pagato, 497,81 euro, si riferiscono a nove mesi, qui ho dovuto obbligatoriamente calcolare il tempo in giorni, perché partendo dal 21 di luglio, arrivati al 31-12 non mi trovo davanti dei mesi interi, ma alcuni mesi più un pezzetto, di conseguenza è necessario obbligatoriamente andare a calcolare il tempo in giorni. Quindi calcolo il tempo complessivo per cui ho pagato già tutti gli interessi, il pagamento anticipato fatto in data 21 di luglio, quindi già anche registrato. Sono 274 giorni, invece la parte che sfora, quella che va a finire nel 2019, che dovrà essere quindi poi considerata nel calcolo del risultato economico del 2019, va dal 31-12 escluso quindi dal primo di gennaio del 2019 fino al 21 aprile 2019. Ecco qua, 111 giorni. Faccio la proporzione, gli interessi interi stanno al tempo intero come X, che è la montare di interessi di competenza del 2019, quindi il mio risconto, perché il risconto praticamente è la parte, la quota di costo che ho già registrato, che ho già pagato, ma che è di competenza del prossimo anno e che quindi va tolto dai costi di quest'anno, sta al tempo appunto del 2019. Facciamo la proporzione, facciamo il calcolo, il calcolo, il risconto viene 201,67. Cosa succede ora? Dobbiamo fare questa rettifica, qui abbiamo detto che questa parte deve essere tolta dai costi, dagli interessi passivi e allora io in contabilità metto meno interessi passivi, quindi sto togliendo dei costi, la variazione meno costi, la variazione economica positiva e va in avere, di fatti, io nel mastrino degli interessi passivi ho i 497 euro che ho pagato per intero in dare, ma in avere la rettifica di 201, quanti interessi mi rimangono di competenza dell'anno e quindi che andranno a finire nel conto economico dell'anno 2018? La differenza è 296,14, dove vanno a finire questi 201 euro che ho già pagato ma che non sono da considerare quest'anno, bensì l'anno prossimo? Vanno a finire in un deposito, in un conto che mi rimane lì, fermo, fino all'anno prossimo, si chiama risconti attivi, risconti attivi perché vanno a finire nelle attività dello stato patrimoniale nel dare, così come le rimanenze di magazzino, questo conto ha un significato molto simile alle rimanenze di magazzino, non è una rimanenza fisica, non la trovo nel magazzino, ma la trovo tra i miei conti, si chiama una rimanenza contabile, in contabilità mi trovo qualche cosa che mi è avanzato da quello che ho fatto l'anno scorso, nel 2018, che non è stato utilizzato nel 2018, ma che comunque è già stato pagato e che quindi è a disposizione nel 2019, ecco qua, e quindi questi risconti poi rappresenteranno un costo da considerare nel 2019 perché si riferiscono a qualche cosa che utilizziamo nel 2019. Questo, l'operazione 1 è terminata. Operazione 2, 15 settembre 2018, abbiamo pagato a mezzo assegno bancario un premio semestrale anticipato di assicurazione Euro 7.250. Diciamo che comunque, anche se non ce l'avesse detto, le assicurazioni sono sempre anticipate, l'abbiamo già visto altre volte. Naturalmente io, se devo assicurarmi contro il rischio di un incidente, di un furto, di un incendio, qualsiasi cosa, evidentemente devo assicurarmi prima che il danno avvenga, l'effetto dannoso avvenga, di conseguenza io mi assicuro sempre prima, all'inizio di un periodo e il pagamento ovviamente avviene immediatamente e poi successivamente se ci sarà il danno che noi temevamo, avremo il rimborso da parte dell'assicurazione. Quindi questi sono, il premio di assicurazione, l'assicurazione è sempre un costo che io pago anticipatamente e pago sempre per un periodo di solito, per un evento che si può produrre in un arco di tempo prestabilito. Quindi siamo sempre di fronte, quando parliamo di questi, a possibili risconti. Allora, che cosa succede in pratica? Spiegandolo un pochino più nel dettaglio. Il giorno 15 settembre ho pagato l'assicurazione, l'ho pagata per sei mesi anticipati, quindi ora siamo assicurati per il periodo che va dal 15 settembre 2018 fino al 15 marzo 2019. Ecco qua, siamo di nuovo in un periodo in cui io passo dall'anno 2018 al 2019, in mezzo ci sta la chiusura dell'anno 31-12. Vediamo che cosa è successo in data 15 settembre 2019 nella mia contabilità. Ho pagato le assicurazioni per cui ho sostenuto un costo, lo posso chiamare assicurazioni, premi di assicurazione, costi per assicurazione, come voglio, comunque va bene assicurazioni. È una variazione economica negativa perché naturalmente è un costo, è un costo che va nel conto economico e l'importo che ho pagato è 7.250, quindi io in contabilità da quel giorno in poi mi trovo un nastrino assicurazioni che nel dare ha 7.250 euro. Naturalmente poi c'è l'uscita dalla banca in avere, ma la banca non ci serve adesso vedere il nastrino. Arrivo al 31-12. Arrivati al 31-12 in effetti mi rendo conto che c'è qualcosa che non torna, come sempre, perché ho pagato il 15 di settembre del 2018, però il periodo assicurato in parte rimane nel 2018 e in parte sfora, va oltre e va a coinvolgere anche alcuni mesi del 2019. Siamo di fronte di nuovo da un risconto. Pagamento anticipato, per vedere il risconto voi dovete sempre avere un'operazione che è commisurata al tempo, per cui un costo di un ricavo, in particolare questo è adesso che abbiamo visto, i primi due, erano due costi, però di operazioni dove era coinvolto il costo era proporzionale al tempo. Prima condizione. Seconda condizione, il pagamento avviene all'inizio del periodo, pagamento anticipato e poi vedremo nei ricavi di riscossione anticipata e terza condizione, il periodo che noi abbiamo deve essere ripartito tra due anni, praticamente deve coinvolgere due anni consecutivi, quindi una parte del costo sicuramente rimane, del tempo trascorso rimane all'interno del 2018 e una parte va oltre. Naturalmente come prima, siccome io nel conto assicurazioni del 2018 ho già l'intero costo, 7.250 e mi rendo conto che di questi 7.250 una parte è di competenza, questa del 2019, devo calcolare questa parte che si chiama risconto e toglierla dal 2018, la tolgo dal 2018, la metto in un parcheggio, in un magazzino, in un qualche cosa che mi rimarrà fermo fino al 2019, dopodiché nel 2019 considererò quel costo di competenza e quindi lo utilizzerò nel 2019. Allora, anche qui facciamo come sempre, dobbiamo fare l'asse dei tempi, mettiamo il giorno di partenza, mettiamo il giorno di arrivo, quindi calcoliamo 6 mesi dal 15 di settembre, arriviamo al 15 di marzo del 2019, poi calcoliamo i giorni totali del periodo, calcoliamo la parte invece del 2019 che corrisponde al risconto, quindi giorni totali 181, sono 6 mesi per cui più o meno il calcolo è sempre lì attorno, il periodo invece del 2019 sono 74 giorni, più o meno due mesi e mezzo e poi facciamo la proporzione, costo totale sta ai giorni totali, come X che è il mio risconto, cioè la parte di costo che è di competenza del 2019 sta a 74 i giorni del 2019. Facciamo il calcolo e viene 2964,09. Allora, questa è la parte di competenza del 2019 che dovrà essere tolta dai costi del 2018 e quindi al 31-12, prima di fare il calcolo del risultato economico dovrò togliere dalle assicurazioni, vedete, avevo in data 15-9 7.250, al 31-12 tolgo i 2964,09 e quindi nel conto assicurazioni che considererò nel calcolo del risultato economico del 2018 io avrò solo la differenza 4.285,91, come deve essere? Cioè praticamente questi 4.285,91 sono i costi di assicurazione di competenza del 2018 che devono rimanere nel calcolo del risultato economico, praticamente corrispondono a questa parte bianca, quella che è di competenza del 2018. Invece la parte che avanza, quella che si riferisce al 2019, non è che viene buttata via, viene accantonata, messa in sospeso, i risconti attivi vengono anche chiamati costi sospesi perché sono dei costi già sostenuti per dei servizi, per un qualche cosa che noi abbiamo già ottenuto ma che non abbiamo ancora utilizzato perché appunto in parte viene utilizzato, questo servizio di assicurazione viene utilizzato nel 2019 e quindi giustamente il costo relativo alla parte di questo servizio che utilizzeremo nel 2019 verrà considerato nel conto economico del 2019. Ecco qua, 2964,09 andrà a finire nello stato patrimoniale e quindi nello stato patrimoniale io di solito metto tutto quello che è ancora a mia disposizione per svolgere attività dal primo di gennaio in poi e quindi va benissimo. Naturalmente se voi adesso andate a controllare, se fate la somma tra 4285,91 e 2.964,09 fate questa somma, vi torna esattamente 7.250 perché così deve essere. Prima avevamo un unico mastrino dove avevamo inserito l'intero costo 7.250, oggi dopo queste operazioni di assestamento questi 7.250 sono divisi in due conti separati, uno è rimasto il conto assicurazioni che comprende solo la parte di competenza del 2018, l'altro è i risconti attivi che comprende la parte invece che è di competenza del 2019 che per il momento rimane in sospesa e verrà utilizzata nel calcolo del risultato economico dell'anno prossimo del 2018. E con questo termina la prima parte. Ciao!